La Cina quasi certamente abbandonerà la politica del figlio unico. La scelta messa in atto dal Comitato Centrale del Partito Comunista nel 1979 per evitare la sovrappopolazione si è rivelata un'arma a doppio taglio. Oggi il 30% della popolazione ha oltre 60 anni e a breve le pensioni potrebbero non essere più finanziate a sufficienza, anche perché la gente invecchia e vive più a lungo. Da qui il passo indietro necessario per evitare che da qui a 20 anni il disavanzo fra popolazione attiva e in pensione non sia deficitario per il paese. Un professore universitario spiega che persino i lavoratori immigrati stanno invecchiando oltre alla popolazione attiva. Questo potrebbe danneggiare la nostra economia a meno di cambiare la nostra politica riguardo alle nascite. Dopo l'ultimo cambio di politica per casi specifici nel 2013 ci si attendevano 2 milioni di bambini. L'anno scorso però le nascite furono di appena mezzo milione di bimbi. Un disavanzo che il paese non può permettersi, a meno di rinunciare alla sua crescita. Senza contare che la politica del figlio unico è andata negli anni a scapito delle femmine, molti gli aborti, perché le famiglie volevano il maschio.